Il mio cuore è per la Roma, però mi piace tantissimo il Boca, ho iniziato a vedere il Boca quando ero piccolo perché c'era Maradora, poi lo stadio, mi innamoravo dello stadio, ma io mi innamoro dei tifosi, tifosi che sono passionali. Il club fondato da italiani mi fa sentire come se fossi a casa, un club grande, un club nel quale si può credere. Mi piacerebbe andare in America, ma mi piacerebbe tanto anche salire quelle scalette una volta e entrare la bombonera da giornalista del Boca, quello sarebbe un piacere. La cosa più importante nella vita è poter compiere i propri sogni, grazie Boca. Questo è il Boca.